Ciao a tutti, siamo qui con Chiara Francini, con la straordinaria Chiara Francini, io non trovo mai aggettivi, perché stiamo promuovendo, vorremmo invitarvi a vedere il nostro TV Movie il 15 dicembre, insomma beh, comunque quando andrà in onda Chiara? Allora, il film andrà in onda su Rai 1 in prima serata il 15 dicembre alle 21 e 25, cioè proprio non esiste fare altro se non guardare Giuseppe Zeno e Chiara Francini. Perfetto, non ci si può sbagliare. Chi è il regista di questo film TV? Il regista è Fabrizio Costa e io e Giuseppe ci siamo trovati non bene, ma di più è stato recitare una favola dentro una favola. Nonostante la quantità di lupini che Fabrizio Costa mangia quotidianamente. Chi altro c'è nel cast di questo film TV? Mi vorrei assolutamente ricordare Lidia Biondi che interpreta la mia mamma ed è un'attrice che purtroppo ci ha lasciato, con la quale io avevo già lavorato e che anche in questo TV Movie interpreta mia mamma. E poi c'è la Maria Luisa De Crescenzo, e poi c'è la Sara Damario, poi c'è… Ci sono tanti altri bravi attori. Perché è la vita? Perché senza i piccoli segreti e le grandi bugie non ci sarebbe la vita, però dobbiamo cercare appunto di rendere il tutto più… Commestibile. Esatto, più umano possibile. E l'amore in questo poi aiuta. Bravo. I nostri personaggi sono assolutamente umani, sono dei ragazzi giovani, appassionati… Sono in carne e ossa, sono in carne e d'ossa, non hanno preso dei cartoni animati, hanno preso noi o… Più che ossa secondo me, soprattutto per quello che mi riguarda, e sono profondamente appassionati al loro lavoro, ma sono anche aperti quando capita loro di fronte l'amore. Quindi cercano, magari certe volte facendo dei pasticciacci appunto come quelli di raccontare delle grandi bugie o nell'avere dei piccoli segreti, cercano di far collimare la parte professionale alla quale tengono però… Però le bugie, come si dice, hanno le gambe, forte, e quindi tutto viene fuori, però l'amore, come in ogni favola, vince… Trionfa. E ci aspetta un finale da favola. Sì. No, una favola. Un telecassata siciliana. Ma no, una favola, una favola. No, però Telepanettone mi ha fatto sorridere. Sì, anche a me, a me tutto ciò che si riguarda il cibo mi fa sorridere. Quindi se definiamo un telecassata, un telepastiera, no? Sì, no, un telepandoro preferisco. Un telepandoro. Sì, ma quei canditi non è che mi… Ma ecco, preferisco il pandoro anch'io. Sì, anch'io, con una spolverata di zucchero. Adesso saluta, saluta, saluta tu, dai. Allora ragazzi e ragazze, uomini, donne, tutti, anche animali, perché comunque nella fiction un ruolo importante ce l'ha un montone, ci vediamo giovedì 15 dicembre sul Rai 1 alle 21 e 25, Giuseppe Zeno e la piccola peste qui di Chiara Francini. Ciao. 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 Grazie a tutti.